Amco nasce nel 2007 è stata rilevata un'azienda che prima si chiamava AirAssembly, da due socio azionisti e è nata l'Amco. Esprit è stato introdotto qui in Amco già prima con la vecchia azienda e siamo stati i primi in Umbria ad adottare questo sistema di software. L'Amco è un'azienda che tuttora produce prodotti di meccanica di precisione, aeronautica. Per quanto riguarda Esprit noi lo adottiamo sulla maggior parte delle macchine, in più abbiamo avuto grossi vantaggi perché dalla programmazione in macchina, con il nuovo sistema abbiamo ottimizzato i tempi di programmazione e di attrezzaggio della macchina. L'operatore se ti dà le proprie indicazioni chiaramente c'è possibilità di crescere e con Esprit riesce a fare un ottimo lavoro visto che dalle indicazioni dell'operatore e le possibilità di Esprit riesce a sviluppare qualcosa di meglio. Grazie a Esprit riusciamo a fare una programmazione dettagliata dei nostri particolari. Come potete vedere abbiamo, grazie a Esprit, una funzione molto importante che è quella di simulare il pezzo con una macchina virtuale assolutamente fedele alla realtà. Questo ci permette di ottimizzare le lavorazioni e ci permette di trovare il percorso utensile più adatto alla lavorazione. Molto importante, Esprit già di suo offre delle maschere di lavorazione che sono assolutamente complete e questo migliora sia il tempo ciclo che la qualità del pezzo in lavorazione. Questo pezzo è un pezzo che noi realizziamo in Amco e grazie ad Esprit nel 2006 abbiamo ricevuto il premio come miglior pezzo realizzato su NL. Diciamo che Esprit in questo è stato di grosso aiuto e di grosso supporto. Un'operazione che era impossibile realizzarla manualmente, grazie ad Esprit siamo riusciti a farla, che è la ripulitura del pezzo. Utilizzando una geometria speciale siamo riusciti a ripulire il pezzo in tutte le sue parti a spiccolo vivo con il vantaggio di non ripulire più pezzi manualmente ma di far uscire un pezzo completamente ripulito e aggiustato.